Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi vi spiegherò come Ciccetta non è un acere. Ora ve lo faccio capire. Usciamo dal gioco. Usciamo dal gioco. Andiamo su YouTube. Aspettate. Ok, ecco, su YouTube. Ecco. Andiamo qua. Avete visto? Lei ha solo partecipato a un film. Lo potete trovare pure voi. Se ve lo volete guardare, trovatelo. Perché, guardate, Joanna non è un hacker, è solo una persona normale che voleva solo giocare a Roblox. Quindi, quando andiamo su il mio server privato di Roblox, di Brokeven, scusatemi. Andiamo su server. Ecco qua, mi devo unire. Non vi preoccupate, questo è il mio server privato. Non ci posso entrare, solo io, tipo, ho aggiunto alcuni dei miei amici. Allora, Joanna non è un hacker. Allora, passiamo al video. Allora, lei non è un hacker. Perché? Perché avete visto? Lei ha solo partecipato a un film. E ora tutti parlano di lei. Ma non è vero. Lei non è un hacker. Anche se vedete video, video, lì, cioè, lei che vola, tipo, fa qualcosa a Roblox. Non c'è problema. Perché lei non è un hacker. Fa, tipo, mettono qualcosa di là e di qua. Mettono un account. E poi fanno il video. Non vi preoccupate. Potete pure togliere l'account di maschio. Tanto non vi hackererà. E ci vediamo. Iscrivetevi. Ciao.